Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di proviamo cose nuove oggi andrò a provare, andrò a provare la Monster Energy Ultra Ultra White italiana da 355 ml dovrebbe essere 355 ml chiaramente farò il paragone insieme alle altre ultra che già possego che ho qua in collezione che adesso farò il confronto adesso cambio inquadratura chiaramente eccomiologicamente per il confronto non potevo che prendere tutte le ultra che già possego white qui abbiamo chiaramente quella di oggi, la ultra italiana, questa è quella americana e qui abbiamo quella italiana da 500 ml da notare che le dimensioni di quella italiana, quella da 500 ml è più alta di tutte rispetto alle altre quella invece più piccolina da 355 ml, le altezze è uguali a quella americana chiaramente quella americana è più emozionale a Bezze Legend quindi ha la linguetta nera rispetto alle altre che è l'anno normale dopodiché qualche altra particolarità che potrebbe avere, vediamo un po' la scritta traduzionale è chiaramente diversa più che altro il confronto va fatto con quella italiana che con quella americana più che altro allora, qui abbiamo le due lattine vediamo che comunque di per sé sono uguali a parte che cambia un po' la dimensione, la parte della scritta là si nota 500 ml e qua 355 ml come faccio a notare ok, vediamo se il disegno cambia leggermente ma ne dubito sarà un po' più ridotto infatti non mettiamo a fuoco, ma che cavolo sì, non so perché, forse è un'impressione, ma sembra che il disegno sia più sbiadito non so perché sembra che il disegno che ha qua sembra che stia sparendo boh, non so se è un'impressione come la citazione è uguale forse è meno marcato rispetto a quella più grande, non so perché notavo questa particolare differenza in quella italiana cioè in quella più piccolina chiaramente qui non cambia nulla, la pixel è tutta uguale qua abbiamo anche, diciamo, una trascrizione la scritta è palesemente uguale cambia solamente chiaramente la dimensione ma la scritta è uguale forse, perché aspettate un attimo qualcosa potrebbe cambiare sì, sicuramente è comunque la stessa scritta guardando bene cambia solo la dimensione e basta anche i social non ci sono scritte e così via perfetto chiaramente è scaduta oppure no? vediamo se è scaduta non riesco a... anche di qua non riesco a fare... ok scade a giugno del 2024 quindi non è scaduta anzi, uno dice giugno l'altro dice... no, non è giugno scusate non si riceve mai comunque agosto 2024 ok, adesso cambio in guadattura e la vado chiaramente a provare logicamente mi aspetta di tagli il 10 visto che la Ultra White è una delle mie monster preferite pensavo che ha il gusto tipo di caramella ma a quanto pare la Ultra White ha il gusto tipo di frutti rossi qualcosa del genere come sempre è proprio affattiva l'odore è sempre lo stesso quindi non è cambiato logicamente da dimensione a dimensione il colore ve lo faccio vedere chiaramente è sempre quel bianco ecco perfetto una cosa che ho notato non so perché ma non non penso che fosse così la ultra white rispetto a quella americana e quella 500 ml mi sembra che sia un po' meno gasata ci ha perso forse un po' di gas nella conservazione però il gusto è rimasto invariato va bene già sapete il mio voto quindi mostre G Ultra voto finale 10 su 10 logicamente questo di qua dove l'ho trovato? l'ho trovato nelle macchinette qua nel mio comune quindi se siete fortunati in qualche macchinetta è possibile che trovate questa versione più piccola so che ne esiste un'altra ancora tramite Tuccio che è forse anche più piccola ancora quella la devo capire come trovarla e capire un po' le differenze perché non è facile stiamo a distinguere questa da quella ancora più piccola va bene se questo video è piaciuto vi lasciamo un mi piace noi ci vediamo alla prossima ciao